Radio Nostalgia presenta Pasticciando con il Bando è martedì e per l'occasione ci siamo messi anche la giacca buongiorno dallo chef Alessandro Bandoni buongiorno a tutte e tutte ed Andrea Seci come ogni martedì mattina quest'ora siamo soli meglio soli che male accompagnati e siamo pronti ad alietarvi con una ricetta direttamente dal librone del Bando che cosa ci fai stamani semplici farfalle col sugo di peperoni il classico sugo di peperoni cioè le farfalle sono quelle già fatte farfalle prendiamo già pasta dai non c'ha voglia di fare niente si veste come i modelli di Evercrombie e poi non ha voglia vengo da scuola guarda come ero serio Madonna che prof perché che prof prof spazio tempo ogni volta che assento piango va bene va bene va bene allora prendete delle farfalle ok mi raccomando mezzo chilo di farfalle no farfalle specifichiamo la pasta la pasta ok dai mezzo chilo di farfalle quindi siamo in quattro cinque persone mezzo chilo di pasta ok poi ci serviranno ci serviranno tre peperoni o gialli o rossi non i verdi che sono quelli un pochino più a sprigni cosa facciamo possiamo fare in due modi la prima è metterli in forno a cento gradi per circa un' ora farli sbucciare e poi frullarli o se no facciamo questo metodo prendiamo i peperoni li tagliamo a pezzi li mettiamo a soffriggere con una cipolla in padella ok dopo un po che è soffritto vino bianco sfumiamo esatto copriamo con acqua sale portiamo a ridurre il tutto quando sono belli sfatti andiamo a a frullare il tutto poi aggiungiamo calcoliamo un cinto millilitri di panna fresca sale pepe e poi ci condiamo le nostre farfalle che abbiamo bollito in acqua salata ok ti ringrazio per avermi fatto venire fame anche stamattina a quest'ora io non posso io torno là che vado a far pratica ragazzi io ve lo dico cioè bisogna interrompere sto programma perché io non ci arrivo a cinquant'anni con la linea snella vabbè dai dai vabbè perché ce l'abbiamo tu sì io no grazie ad Alessandro Bandoni che torna sabato mattina chi c'è sabato Antonio Morelli grande Antonio quindi sabato a quest'ora sempre qui su Nostalgia ciao Ale ciao Andrea Nostalgia vi ha presentato pasticciando con il bando